Qualche giorno fa una guardia giurata si è tolta la vita e c'è stato un programma televisivo nel quale un giornalista sparava a zero sulle guardie giurate dicendo che fanno dei turni pazzeschi e sono molto stressati. Da qui il suicidio. Ho visto altri video di guardie giurate a favore di questo giornalista. La cosa assurda è che nessuno ha parlato delle forze dell'ordine. I giornalisti non ne parlano mai probabilmente per una ragione etica e gli altri non ne parlano perché comunque avendo delle licenze sottoposte alle forze dell'ordine hanno sempre un po' paura. Sono sempre un po' intoccabili. Infatti tanti mi scrivono che mi dovrebbero togliere la licenza quando io sono a favore delle forze dell'ordine e a me piacciono tantissimo. Però io come al solito vi parlo di dati. Nel 2022 si sono suicidati 14 carabinieri di cui 5 carabinieri forestali, 8 finanzieri guardie di finanza, 7 militari dell'esercito, 5 poliziotti della penitenziaria di cui un tentato suicidio, 21 poliziotti della polizia di stato di cui uno da poco in pensione più 3 tentativi di suicidio, 6 poliziotti della locale, 6 guardie giurate, 2 vigili del fuoco, 2 militari dell'aeronautica militare, 1 militare della marina militare. Fonte attendibile, il ministero. Scusate, fonte precisa, osservatorio suicidi in divisa.